Ciao, siamo i Just Do It, siamo un duo musicale chiterrevoce, Francesco Tizianel è il chiterrista, io sono la cantante Laura Battel. Francesco, vuoi illustrarci cosa succederà il 23 dicembre? Sì, siamo qui in questo splendido studio del PN Box per promuovere un nostro concerto che faremo in occasione del Natale e si svolgerà al teatro di Borgo Meduna in via Tiepolo 3, praticamente vicino alla parrocchia di Borgo Meduna per darvi indicazioni più precise. Sarà uno show dedicato alla storia dei Just Do It che esistono da poco più di tre anni, lo scorso 7 luglio abbiamo festeggiato il nostro terzo compleanno della nostra formazione musicale e ci è venuta l'idea di raccontare tutto quello che abbiamo vissuto assieme e quello che ci succederà in futuro attraverso uno spettacolo audiovisivo. La novità di quest'anno infatti è che lo show è una sorta di concept show dove le immagini si uniscono, i nostri arrangiamenti, le canzoni che ci hanno caratterizzato e che ci hanno emozionato di più in questo lungo percorso e l'orario è alle ore 21, l'ingresso è libero e ricordiamo che la Play School of Music promuove questo evento e che è patrocinato dal comune di Pordenone. Vogliamo rivelare anche qualche altra anticipazione o lasciamo la sorpresa ai nostri ospiti del concerto? Io lascerei la sorpresa agli ospiti e inviterei caldamente ad esserci perché secondo me sarà un bel evento. Quindi ricordatevi, venerdì 23 dicembre al Teatro di Borgo Meduna, ore 21, via Tiepolo 3, ingresso gratuito e concerto dei Just Do It in occasione del Natale. Sarà un'ottima occasione per scambiarci gli auguri con buona musica, speriamo. Certo.